Cos'è per te la vita? È un dono meraviglioso con tutti i suoi limiti e con tutte le meravigliose cose che ti offre. La vita fondamentalmente ti fa capire che non puoi totalmente controllare quello che ti succede, ma puoi controllare il tuo modo di approccio della cosa che ti succede. Per me oggi la vita è un qualcosa di magico, è l'unico bene prezioso che non puoi comprare, quindi avere quel giorno in più, quella possibilità che ho avuto io, è qualcosa che ti arricchisce dentro. È un viaggio meraviglioso, la vita non è fatta solo di cose belle ma anche di cose difficili, ma noi siamo quello che facciamo, siamo come reagiamo. Tra me la vita è salita e discesa. Siccome so che me la sono sudata questa vita, cerco di godermi ogni secondo, ogni attimo, ogni momento è prezioso. D'altro avuto un abbraccio di un amico, anche perché no, una passeggiata in macchina per me è anche quello un momento prezioso. Non è solo un abbraccio di un amico, anche perché no, un abbraccio di un amico. Grazie a tutti